Cancelo Giorginho Recupera la palla, intercettando il passaggio Messi Può metterla in mezzo da lì Brutto lavoro in copertura Perdono il pallone Chiesa CR7 Guadagna metri Ottima lettura difensiva Possono ripartire dopo il recupero del pallone Chance per passare in vantaggio L'ha messa dentro con un tocco morbido a scavalcare il portiere Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol Come evidenziano bene queste immagini Ha poi visto il portiere leggermente avanzato E lo ha beffato con questo tocco morbido E questa è una grande giocata Il punteggio adesso è di 2 a 1 Occhio a Cristiano Ottimo intervento del difensore Ma non è finita Chiesa Di palla Di palla Il gol di di palla Si è coordinato alla perfezione E ha fatto secco il portiere Quarto gol della gara Che fissa sul 3 a 1 il punteggio Messi Passaggio di Messi che viene intercettato Ospiti che hanno fatto registrare un minor possesso palla rispetto agli avversari Finora Il dato però conta relativamente oggi Palla sulla traversa Va ancora in campo Ha calciato al volo Ma è entrata davvero di poco Ha impattato la palla alla perfezione E ci è mancato poco che non trovasse lo specchio Giorginio Palla per Thomas Si fa vedere Seedorf Giorginio Prova l'imbucata per il compagno Si salva con la deviazione Palla buttata via Avanza a caccia del barco giusto Dice di no con questo intervento Occhio al tiro della bandierina Restringe Iorisma Non è finita Determinante difensore qui Ecco Capuè Federico Chiesa Intervento tempestivo Interrompe l'azione di Cristiano Ronaldo Ronaldo Può mettere da lì Ottima la copertura del difensore Pallone interessante Attenzione alla CR7 Arbitro dice che può bastare Il primo tempo si chiude Sul risultato di 3 a 1 Ecco Il primo tempo si chiude Mi Iscriviti Comincia la seconda frazione di gara Di Bala Conclusione sul fondo dopo la deviazione della traversa Ravvero sfortunato qui Il portiere non ci sarebbe mai arrivato Salvato dall'attraverso Baran Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano Che tuffo nel portiere Occhio al cross di Di Bala Respinge sulla linea di porta Altro tiro dalla bandierina Ha provato di testa, batte nel portiere Palla che è terminata larga La marcatura qui ha funzionato molto bene Non ha avuto il tempo per dare forza e direzione alla palla Bene qui ciò Cancelo Lo United prova della metà campo avversaria CR7 supera l'avversario Capisce tutto e recupera un pallone complicato Capisce tutto e ferma l'azione C'è spazio per Cristiano Ronaldo lateralmente Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone Nessun problema con l'uscita del portiere I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa Numeri che contrastano con una prestazione nel complesso insufficiente Al di là del punteggio Pierre Pochi pericoli creati dalla parte del portiere avversario Chissà che il tecnico non decida magari di cambiare assetto E passare a un sistema più spregiudicato Per sfruttare meglio questa supremazia territoriale Giorginho Cristiano Gioao Cancelo Buona lettura dell'azione Ha intercettato bene il passaggio Thomas Partey Serve Cristiano Ronaldo Gioao Cancelo Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio Avanzano a caccia di spazi La mette sul secondo palo Traversione che finisce comodo fra le braccia del portiere Palla allontanata Partey Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa Buono l'intervento del portiere Riconquista una palla Occhio Stato molto bravo qui il difensore Che ha risolto una situazione complicata Di Bala Occasione Da raccoglie il portiere senza problema Bravo a intercettare il passaggio No che fosse difficile Fuori gioco Posizione di offside È scattato troppo presto qui Peccato Poteva essere una buona occasione Di Bala Ottimo tempismo Interrompe la manora avversaria Si fa vedere Seendorf I compagni si fanno vedere Partey Giorginio Vince in contrasta Recupera il pallone Ancora un quarto d'ora da giocare Sbaglia Cristiano Ronaldo qui Ottima qui la giocata Pallone che è uscito Ma qui ha sprecato davvero Un'ottima chance Altro possesso regalato Può colpire da lì Risieve Giorginio Finisce col perdere palla Si fa vedere Seendorf C'è rimetti in aria Respringe la conclusione allontana Sfruttano l'errore In fase di palleggio E recuperano Va con il possesso palla Attenzione alla CR7 Palla che rotola via Dopo un buon intervento Ancora Petit Ecco Zaccaria Giocata da Applausi Riconquista un pallone importante Reguilon Possesso che sfuma Si gioca C'è il vantaggio Puntuale qui Il difensore nel recupero Di Bala Ci sarà solo un minuto di recupero Attento qui Ferma il lancio di Di Bala E' finita Un ottimo risultato Per la squadra ospite Che torna a casa Con i tre punti Un successo accolto Con gioia Dei tifosi Che hanno incitato la squadra Per tutta la partita Possono ripartire dopo il recupero del pallone Chance per passare in vantaggio Chiensa Di Bala Chiensa Di Bala Per la squadra Di Bala Quiinser Il gol di Ribala si è coordinato alla perfezione e ha fatto secco il portiere. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!